Mi porta ciò a parlare delle nostre politiche del lavoro, poste come sapete in azienda, ci sono anche un po' di domande vostre su questo, con una grossa rappresentanza sindacale, abbiamo oltre 100.000 iscritti nelle varie sigle. Purtroppo la storia recente è stata una storia intorno a quel modello di decapito che vi ho descritto, travagliata, per cui il sindacato di poste è un sindacato per quello che ho avuto modo di riscontrare, che comunque ha a cuore l'interesse dell'azienda, fa l'interesse dei lavoratori in maniera decisa, però capisce anche le necessità dell'azienda. E dal 2003 non veniva fatto uno sciopero generale che invece era stato fatto meno di due anni fa. Quindi un messaggio purtroppo che l'azienda aveva subito alla fine del 2016 rispetto a quel modello di decapito che vi ho fatto vedere. Quindi quel modello di decapito del 2015 col recapito a giorni alterni e quindi quella ferita sulle aree regolate era stato dai sindacati alla fine del 2016 denunciato e detto noi non seguiamo più l'azienda nell'implementazione di questo modello. Noi abbiamo ricucito, abbiamo a novembre del 2017 ridato per la prima volta un aumento salariale che i lavoratori di poste non vedevano dal 2012. A febbraio del 2018 abbiamo concordato con tutte le sigle quel modello che vi ho descritto. Quindi le sigle hanno accettato, che è stato un passo importante, storico, di ricominciare a consegnare il sabato, di riconsegnare il pomeriggio perché quella consegna del pacco della raccomandata un quarto alle otto a casa nostra vuol dire lavorare fino alle otto di sera. e di sposare il nuovo modello di recapito. Abbiamo di recente anche integrato il nostro contratto aziendale con un fondo sanitario per la prima volta, quindi tutti i lavoratori di poste sono assicurati dall'azienda lato sanità e abbiamo a giugno finalizzato un accordo sulle politiche attive del lavoro del quale poi vi darò qualche dettaglio più specifico. In sostanza, nell'arco di piano, quindi da qui alla fine del 2022, poste avrà un incremento del proprio ingressi nel proprio organico a pieno regime di 10.000 unità. Metà vanno a fare quel recapito di pacchi del pomeriggio perché quella è una linea che il postino storico che è abituato ad andare la mattina con la sua area di competenza non fa volentieri, ma abbiamo purtroppo tanti giovani, talvolta anche con titoli di studio molto importanti, che sono disposti a fare il recapito con la laurea il pomeriggio e quindi assumeremo lì circa metà delle nostre necessità e altre 5.000 li assumeremo negli uffici postali perché abbiamo detto che vogliamo allargare il numero di prodotti e di consulenza che diamo ai nostri clienti e quindi abbiamo bisogno di più persone. In più, trovate nella stessa pagina, altre circa 5.000 persone che noi troviamo grazie a un processo di digitalizzazione interna che sta vivendo l'azienda, dei propri processi, ci stiamo sburocratizzando, la sburocratizzazione libera risorse che prima facevano girare carte, queste risorse non lasciano l'azienda ma ci permettono di incrementare quelli che passano alla produzione, quelli che passano nelle sale consulenza, quelli che passano nella sportelleria.